Recanati, tutela del paesaggio leopardiano. Arriva a proposito la vicenda della vecchia casa colonica da ristrutturare nei pressi del Colle dell'Infinito. Nonostante siano ormai passati degli anni nessuna soluzione definitiva all'orizzonte e questo pur con due sentenze favorevoli, Tar e Consiglio di Stato. La posizione ufficiale della proprietaria, Anna Maria dalla Casa Piccola, in un incontro stampa con i vari organi di informazione. Due sentenze favorevoli allora, ma quanto sembra la storia non è affatto finita. Sì, naturalmente lo scopo della sentenza del Consiglio di Stato non è quello di approvare il progetto. Il Consiglio di Stato può soltanto dire alla sovrintendenza quali sono i criteri per la riattivazione del procedimento. Però il Consiglio di Stato è stato molto chiaro, ha indicato al sovrintendente cosa dovrebbe fare invitandolo a collaborare sia con l'amministrazione che con la parte privata. Non ci sembra però che questo principio, che il Consiglio di Stato ha affermato come una vera e propria censura al precedente comportamento dell'amministrazione, sia stato colto. Il mancato rispetto di questo principio è grave per un sovrintendente e è molto grave per un sottosegretario e è gravissimo dal nostro punto di vista per un ministro. Quindi gli organi competenti si sono sbagliati. Invece di chiedere scusa, come dice l'Avvocato Piccinini, vanno avanti nella loro azione contro una persona che non farebbe mai niente contro l'ambiente e la cultura. Posizione in linea con quella della massima autorità cittadina. La vecchia casa colonica di Roccada può essere recuperata. C'è un progetto della famiglia, è una bruttura per la città di Recanadi, è un pessimo biglietto da visita per i numerosi turisti che arrivano nella nostra città. Quindi noi riteniamo che possa essere recuperata, peraltro senza aumentare la volumetria, con un recupero che la sovrintendenza deve ovviamente coordinare, che rispetti per la tipologia del manufatto, i colori, il materiale utilizzato, quella che è la sacralità del luogo leopardiano. Peraltro la famiglia Dalla Casa Piccola aveva fino a due anni fa la possibilità di costruire realmente villette a schiera. Erano 5.000 metri cubi. Un accordo che abbiamo raggiunto con Dalla Casa Piccola prevede la costruzione non più in questa zona, ma in un'altra zona di Recanadi dove non c'è il vincolo leopardiano. Quindi penso che sia un segnale di sensibilità da parte dei proprietari e di attenzione forte da parte dell'amministrazione comunale. Quindi nessun rischio cementificazione, solo il recupero di un manufatto che le immagini lo dimostrano è qualcosa di brutto e di negativo per la città di Recanadi. Ma come spiegare la guerra in atto da parte della sovrintendenza? Ma io penso che intorno a questo argomento si sia creata una mistificazione. Perché? Perché chiaramente parlare del Colle dell'Infinito, di un luogo simbolo per la poesia, rappresenta un qualcosa di suggestivo. Siamo tutti d'accordo nel mantenere la sacralità di questo colle e la tutela del paesaggio. Noi lo abbiamo fatto concretamente. Mi sembra che questa situazione sia stata presa a pretesto per innescare poi un contenzioso che non ha portato bene finora alla sovrintendenza, visto che sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno riconosciuto le ragioni del cittadino dalla casa piccola. A buttare benzina sul fuoco anche il ministro Franceschini. Io penso che il ministro Franceschini sia stato tratto in inganno da tante voci che circolano in libertà e che non sono fondate. Certo, se arriva la telefonata di chi dice ma Recanadi stanno cementificando il Colle dell'Infinito, è chiaro che la reazione anche di un ministro è quella di dire fermatevi, ragioniamo la questione. Io farò avere al ministro informazioni dettagliate su questa vicenda. L'ho invitato anche a rendersi conto di persona, a venire a Recanadi perché non è solo questa la tematica della quale dibattiamo. Ci sono tante belle situazioni e la nostra è una città straordinaria che ha grande potenzialità e sta portando avanti iniziative importanti. Quindi se verrà qui a Recanadi saremo ben lieti di accompagnarlo a visitare la nostra bella città. E come la mettiamo con tutta questa pubblicità negativa da parte degli organi di stampa scritta e parlata? Beh, chi la alimenta non fa un buon servizio a Recanadi soprattutto perché della nostra città nell'ultimo periodo si parla come della città dove è stato girato un film su Giacomo Leopardi dove vengono portate avanti iniziative importanti per la cultura, per il turismo è stato inaugurato da poco il Museo dell'Emigrazione Marchigiani insomma tutta una serie di iniziative che hanno proiettato Recanadi a livello nazionale e anche fuori dai confini nazionali parlare male di Recanadi per una questione che non esiste non fa onore a chi diffonde questo tipo di veleno Verità distorte, tante notizie inesatte, realtà ben diversa da quella finora presentata commenta e documenta l'Avvocato Piccinini quando invece ci si trova di fronte ad un vecchio casale da recuperare ad uso abitativo e non ad uno scempio da evitare, un resort a 5 stelle a una cementificazione del colle Niente attentato al paesaggio leopardiano allora ma recupero di un immobile il cui progetto in regola con le disposizioni di legge Nessun attentato al paesaggio leopardiano il progetto è stato anche reso pubblico dalla mia cliente con un procedimento molto trasparente che è quello dello strumento urbanistico attuativo e del piano di recupero Tutti i dettagli progettuali sono stati concordati con i tecnici dell'amministrazione comunale e sono stati sottoposti da subito alla sovrintendenza Il diniego era un diniego completamente immotivato lo ha detto il TAR e lo ha detto anche il Consiglio di Stato Anzi, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno rilevato come questo intervento ha un carattere nettamente migliorativo ha il pregio di recuperare un immobile che è ammalorato dal tempo e che è versa in condizioni di forte degrado Quindi lo scopo di questo intervento semmai è quello di riqualificare il paesaggio e di recuperare una bruttura che in questo momento sicuramente non rende omaggio al paesaggio A questo punto auguriamoci solo che la vicenda trovi in fretta la sua conclusione definitiva Tirarla ancora avanti sarebbe proprio ridicolo Con buona pace poi della solita burocrazia che invece da aiutare il cittadino lo ostacola in tutte le maniere E se alla sovrintendenza fischiano le orecchie che fischino pure Il messaggio è proprio per questa istituzione dello Stato uno Stato che poveri noi ancora non funziona